ciao a tutti ben ritrovati oggi abbiamo un altro pacco da aprire vediamo che cosa è arrivato da marcom srl che è uno store online che risponde al sito www.marcomweb.it allora vediamo un po che cosa è arrivato allora qui abbiamo due prodotti rack che io conosco già in parte e ve li farò vedere perché per me sono molto interessanti il primo prodotto è un sensore l'ora alimentato a batteria marca rack sensore di temperatura umidità e pressione il secondo prodotto è un altro dispositivo rack come vedete molto compatto è un nodo gps quindi un tracker gps che funziona su rete l'ora sempre marca ecco qua i nostri due nodi abbiamo detto rack 7204 sensore di temperatura umidità e pressione e rack tracker gps che è un sensore un tracker gps entrambi funzionanti su rete lora one mettiamo un attimo da parte il tracker il rack 7204 si presenta come un dispositivo completamente integrato che può essere installato a parete tramite questi fori e non necessita di un'alimentazione esterna andiamo a vedere cosa troviamo al suo interno questo coperchio è un coperchio di protezione con degli incastri al suo interno c'è la scheda l'ora e tutta la parte di elaborazione dati c'è una presa micro usb che attenzione non serve per ricaricare il dispositivo ma serve solamente per configurarlo o aggiornare il firmware abbiamo una batteria non ricaricabile quindi questa batteria una volta scarica va sostituita comunque il costruttore vi metterò nelle note degli episodi della della puntata vi metterò il link alle specifiche tecniche il costruttore dichiara una durata notevole anche con un utilizzo piuttosto importante del sensore quindi con diverse letture al giorno la durata è di molti mesi addirittura penso che la durata indicata sul sito sia superiore ad un anno comunque andremo poi a vedere nei link per le specifiche questa è l'antenna l'ora quindi l'oggetto si presenta tutto qua per fare un'installazione a parete si dovranno rimuovere queste due viti della staffa metallica che sostiene tutto l'apparato si farà l'installazione a parete tramite i fori nella parte posteriore e una volta rimontata la staffa metallica si potrà collegare la batteria collegare i cavi avendo cura di rispettare la polarità più e meno richiudere il coperchio e in questo modo il sensore sarà subito pronto subito funzionante io ne sto già utilizzando uno con grande soddisfazione configurato per lavorare sulla rete ttn e posso dirvi che il mio sensore già attualmente in funzione che varrà integrato poi anche con questo che vedete qui è un sensore installato all'interno di un'abitazione a 11 chilometri e mezzo di distanza dal che dal mio personale gateway io abito in campagna quindi abbiamo un gateway distante 11,5 chilometri e uno di questi dispositivi all'interno di un'abitazione e sto regolarmente leggendo la temperatura all'interno dell'abitazione senza interruzioni dal giorno in cui l'ho installato quindi le performance di Lora si dimostrano ancora una volta davvero eccezionali questo sensore lo andrò a montare all'esterno perché voglio andare ad avere le letture dei parametri ambientali sia all'interno che all'esterno dell'abitazione per verificare le capacità diciamo di resistenza termica dell'edificio quindi potendo misurare la temperatura la pressione l'umidità interna ed esterna e le relative variazioni avrò un buon quadro della situazione per quanto riguarda la coibitazione della casa e il funzionamento degli impianti bene mettiamo un attimo da parte questo bellissimo sensore ambientale diamo un'occhiata al tracker gps che si presenta molto compatto e ha una bella guarnizione a protezione dei contatti quindi questo tracker secondo me si presta assolutamente anche per un utilizzo outdoor diciamo per sport o direi anche forse con con animali c'è una un cartoncino di protezione che ci ricorda che la batteria è scollegata quindi andiamo a rimuovere questo cartoncino apriamo troviamo che nel coperchio superiore è integrata come potete vedere qui l'antenna l'ora quindi per poter rimuovere completamente lo sportellino dovremo andare a rimuovere il connettore dell'antenna l'ora qui troviamo il l'antenna gps e la batteria che questa volta è una batteria ricaricabile agli ioni di litio quindi in questo in questo caso noi potremo andare a ricaricare la batteria tramite la presa micro usb integrata nel dispositivo la potete vedere qui qui abbiamo dei led indicatori di stato e di funzionamento quindi per il funzionamento di questo tracker avremo bisogno soltanto di collegare la batteria configurare correttamente l'applicazione al quale vorremmo associare il sensore per esempio se sarà su ttn dovremmo andare a creare un'applicazione dedicata per questo tracker inserire i parametri che sono forniti in confezione e su un'etichetta da applicare sul tracker e una volta attivato il sensore il suo funzionamento sarà diciamo attivo fin da subito quindi potremo subito iniziare a utilizzare il gps vi assicuro che si presenta davvero molto bene è molto compatto pesantino perché la batteria bella capiente mi piace moltissimo questo accessorio in silicone che copre la micro usb e quindi mi fa pensare che potrò utilizzarlo per fare qualche esperimento ecco le etichette che vi dicevo sono queste io le cercavo qui ma in realtà sono queste qui ci sono i dati per poterlo configurare all'interno della vostra applicazione su ttn o su una vostra rete privata qui c'è l'etichetta di modello si chiama rack 7200 e quindi bene io ora direi che posso configurarli e testarli quindi vi lascio vi saluto e magari seguirà un prossimo video con qualche informazione su come fare a collegare i dispositivi alla rete e sfruttarli devo fare un particolare ringraziamento a marcom che non mi ha pagato per questo questi dispositivi io li ho acquistati come potreste acquistarli voi e vi spiego anche il perché il primo sensore rack che io ho acquistato questo qui il 7204 l'ho acquistato su aliexpress pagandolo un po meno però la spedizione è stata piuttosto lunga il dispositivo è arrivato quasi un mese dopo il mio ordine e ho avuto una bellissima sorpresa una volta arrivato il postino con il pacco che doveva contenere il mio dispositivo che io aspettavo con grande fervore mi ha comunicato che avrei dovuto pagare ben 24 euro di oneri doganali e ahimè ho dovuto pagare e quindi il mio sensore rack è venuto a costare ben oltre al prezzo che si trova in commercio sul sito di marcom che vi ricordo è marcomweb.it nota a favore di un marcomweb c'è sicuramente il fatto che il mio ordine risale a ieri pomeriggio quindi io ieri pomeriggio ho acquistato i prodotti il pagamento è avvenuto prima della sera della serata intorno alle 17 mi è arrivato un'email che mi informava che il mio ordine era stato evaso e questa mattina con mia grande sorpresa quindi meno di 24 ore dopo DHL mi ha consegnato il pacco quindi davvero complimenti a marcomweb perché sono rapidissimi e non mi sarei aspettato un trattamento simile veramente mi aspettavo di vederli fra una settimana quindi ora sono proprio contentissimo e potrò passare il pomeriggio nel collegamento dei dispositivi e nel test un saluto a tutti quanti e speriamo di risentirci presto con altre novità vi informo che cercherò con marcomweb di instaurare un rapporto non tanto per avere dei vantaggi io ma per cercare di portare dei vantaggi a voi quindi cercheremo di concordare con marcomweb una scontistica che potremmo dedicare a tutti voi ascoltatori dei vari podcast come G Cookies, Spillole di Beat, Tecnopills e appassionati appartenenti ai vari The Things Network italiani cercheremo ecco di avere un bel codice di sconto da poter utilizzare tutti quanti per acquistare prodotti a un ottimo prezzo e magari evitando di pagare spese doganali inutili e a tempi di attesa lunghissimi soprattutto per questi prodotti qui poi vedremo se si potrà avere degli sconti anche su prodotti di altre marche bene questa volta vi saluto veramente ciao a tutti alla prossima